Volo, 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 volo come la colomba, eccolo qui, zzzz, ecco qua, atterro, ciao, chi sei? No, ho sbagliato, siete uguali, eravate uguali, ciao, scusami, aspetta un attimino che hai appena appena macchiato, ciao, ci vedi bene? No, non molto, sono un po' abbronzato, ecco, hai vinto lecca lecca, no, non lo dallo io, Questo è più bello, sì, ciao, ciao, cosa festeggiate stasera? Matrimino al mio, non ci credo, cosa festeggiate stasera? Adolio il nubilato, non ci credo, cosa festeggiate? La laurea, cosa festeggiate? La laurea, quindi, io direi che festeggiamo il divertimento, il nubilato, ma sì, sì, vedi qua, festeggiare il nubilato, giusto, ma Sì, sì, guardate che ci divertiamo insieme, vero? Ma infatti, sì, hai fame? Non tanto A sette, poi dal prete, hai fame, vai Dal cane Fermiamoci qua perché siamo ancora in fascia protetta, perché poi si va oltre, giusto? Allora, io ti chiedo, come ti chiami? Arianna Arianna, arrivi da? Brescia Brescia, dove? Che zona? No, no, no Carlone, Carlone Sì Non perdere il filo, perché sì No, hai ragione, hai ragione, Brescia Ti sposi con? Paolo Con? Paolo Paolo Paolo, quant'anni ha? Paolo? 33 33 33 33 33 33 Oh, bellissimo, bellissimo Mi siete conosciuti dove? In banca In? Banca Ho capito, in bagno io In banca, non diciamo il nome della banca perché non vogliamo fare pubblicità Ma, allora tu entravi in banca o uscivi? Eh, ci lavoravamo insieme Lavoravamo insieme e adesso vi basta? Oh, i filiali diversi Mi siete guardati e avete detto, tu è così, ma fra di noi, siamo fra amici, eh Tu all'egilista hai detto, cosa hai detto? Ho detto, non è molto simpatico, però vabbè, è carino Ma avresti pensato di arrivare a questo modo così? Ovviamente E quindi ti prenderesti a schiaffi? Eh, insomma, adesso lo decidiamo, anche lui ha l'addio celibato, quindi decidiamo quando torna E quanti siete come invitati? Quattro E quattro? No, ma al matrimonio Ce l'ho rimasto? 120 120, quindi facendo un calcolo, 300 euro minimo a busta Però anche noi ti diamo il viaggio, ti può interessare, vuoi sapere dove ti mandiamo? Dove? Sul Mella, tipo crociera su Mella, ammitissima Allora, partenza Bagnolo Mella e arrivi a Lumezzane Bellissimo Poi ci sono le varie tappe Perché non è male come viaggio, gratis Allora, ti dico solo che lo skipper farà Sandrino Perché lavorava in un posto che non si può dire, va bene? Benissimo Ok Mentre noi ti salutiamo, manda un salutare Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti E nulla Ini Grazie a tutti.